Il 24 aprile di 104 anni fa i turchi ottomani iniziavano quello che gli armeni chiameranno il grande male, il genocidio di un popolo che per molti anni è rimasto taciuto anche in occidente. Per ogni armeno oggi è il giorno in cui 104 anni fa ebbe inizio il grande male, come viene definito il genocidio subito in Anatolia tra il 1915 e il 1916. Un vero e proprio sterminio di massa, accuratamente pianificato e condotto con l'obiettivo di cancellare da quelle terre l'antica presenza degli armeni. Un milione e mezzo le vittime che sono state celebrate oggi nel cortile di Palazzo Moroni. Alla presenza delle associazioni armenie e delle autorità cittadine è stata posata una corona sotto il basso rilievo che ricorda i martiri del genocidio degli armeni. Di questo genocidio non si è voluto parlare per lungo tempo al pari di tutti i genocidi. Un secolo fa la Turchia ottomana perpetrò il genocidio del nostro popolo secondo un piano premeditato e questa è finalmente la verità che la storia ha acclarato.